Ricorderete tutti che dopo una grande battaglia del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale siamo riusciti a far stanziare 5 milioni di euro nelle maglie del bilancio per contrastare il caro Bolletti e aiutare tante famiglie abruzzesi. Ebbene, purtroppo, dobbiamo constatare con rammarico che in questi giorni il centrodestra con un colpo di spugna ha tolto questi soldi e li ha cancellati in commissione, adesso anche oggi in consiglio, in maniera, veramente io dico inspiegabilmente, avrebbero dovuto contestualmente alla cancellazione ripristinare questa somma e invece stiamo assistendo alla presentazione di tantissimi emendamenti a pioggia per finanziamenti a pioggia, parrocchie, fondazioni ed associazioni per importi che cubano e cuberanno anche più di un milione di euro. Ecco, nel mentre si tolgono quindi 5 milioni di euro si fanno finanziamenti a pioggia che noi contrasteremo sotto tutti gli aspetti. Noi chiediamo con forza di ripristinare questa somma per aiutare le tante famiglie che non ce la fanno a pagare le bollette e abbiamo presentato centinaia e centinaia e anche migliaia di emendamenti ostruzionistici con la finalità di ripristinare questa somma e per bloccare i tanti finanziamenti a pioggia che gridano davvero vendetta.